Applausi fragorosi in una tribuna gremita, musica e fuochi d'artificio. Così il giovane difensore Mirko Distante è stato accolto allo stadio Camassa di Sava, circa due settimane dal risveglio dal coma in seguito al grave incidente stradale che lo ha coinvolto lo scorso 26 agosto. Ancora legarse intorno al capo e sulla sedia a rotelle, ma è tornato sul campo, felicissimo di festeggiare il suo diciassettesimo compleanno. Ad accoglierlo ci sono i cittadini, i suoi compagni di squadra, i mister, il sindaco Gaetano Picchieri, accompagnato dall'assessore allo sport Ilaria Pesare e i responsabili dell'associazione Sava Calcio che hanno organizzato questa festa per Mirko. È una festa memorabile perché vediamo un nostro atleta, lo riabbracciamo, abbiamo sperato, abbiamo pregato e siamo emozionati ed orgogliosi di abbracciarlo nuovamente. Ad accompagnare Mirko ci sono i genitori che hanno preferito non essere ripresi ma ci tenevano a ringraziare le istituzioni locali, i sanitari dell'ospedale Santissima annunziata di Taranto e l'intera comunità di Sava. Soprattutto al reparto di rianimazione e della neurochirurgia perché sono stati bravissimi dalle osse ai dottori. Per mio figlio hanno fatto tutto, tutto quello che c'era da fare. E Mirko ha capito davvero la comunità che gli stava vicino. Circondato dall'amore, Mirko ha ricevuto sostegno anche dal mondo del calcio nazionale. Uno dei primi a lanciare un videomessaggio di pronta guarigione è stato il campione Alessandro Del Piero appello che il giovane calciatore savese ha potuto vedere con grande emozione subito dopo il risveglio dal coma. Adesso come sta? C'è tanto da riprendere, c'è tanto, tanto, tanto. Però piano piano è forte, è un guerriero e ce la farà.